Ciao a tutti, sono Marta Bechis, sono nata a Carmagnola in provincia di Torino il 4 settembre del 1989. La mia squadra di provenienza è la Volalto Caserta e da gennaio sono la nuova palleggiatrice della Millennium Brescia. Ho iniziato a giocare a pallavolo seguendo le orme di mia sorella, andavo a vedere tutti i sabati e le domeniche, tutti i weekend in palestra e ogni fine partita mi mettevo con mio padre o contro un muro con un pallone a palleggiare e a provare a schiacciare e quindi da lì mi è nata questa passione nel voler continuare e nel seguire le sue orme. Arrivo da una famiglia sicuramente molto sportiva e quindi ero sempre stata appassionata allo sport e sono sempre stata portata a fare attività sportiva e quindi eccomi qua che gioco ormai da 11 anni nell'alto livello della pallavolo. Sono sempre stata appassionata di design e di architettura ed è per questo che sono anche una persona molto curiosa che ama viaggiare, andare alla scoperta di nuovi luoghi e nuovi posti e ormai da tre anni a questa parte sono iscritta all'Università di design e discipline della moda proprio per riuscire a coltivare oltre alla passione dello sport e anche a queste altre mie passioni esterne allo sport e alla pallavolo e sono molto contenta e soddisfatta, sta andando molto bene, sono addirittura d'arrivo, spero di laurearmi presto, a breve, non diciamo niente ma incrociamo le dita. Ciao! 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 Ciao!